Il governo Renzi continua dritto per la propria strada e intende chiudere diversi uffici postali anche in Trentino. Voi come rispondete? Il piano aziendale è fortemente criticato, addirittura in commissione si sono chiamati responsabili di poste italiane per rivedere un po' il tutto. Diciamo, si può capire che serva una razionalizzazione, rivisione dei costi, però noi facciamo un po' il punto. La montagna è un qualcosa di diverso. Se tu tagli un servizio di montagna, il comune più vicino può essere a decine e decine di chilometri, non è come in città che puoi sostanzialmente ovviare con minimi disagi. Decine di chilometri, ma che in tempi invernali possono significare anche percorrenze impossibili. Dopodiché non abbiamo i servizi generalizzati in ogni comune, io penso al Trentino per esempio. L'ufficio postale è magari l'unico posto in cui il pensionato può ritirare la pensione, oppure le funzioni che fa da banca, da bancomat e da servizi di questa natura. Dobbiamo pensarci molto bene, bisognerebbe lasciare un po' di elasticità, il territorio non è tutto uguale, la montagna va vista con una particolare attenzione, perché è inutile parlare di spopolamento di montagna se poi non si guardano i servizi con la giusta attenzione.